Buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Benvenuti a questo appuntamento con le redazioni raccontano. È una serie di eventi di Mondodoro Education in cui noi della redazione, in questo caso scientifica, presentiamo in maniera proprio diretta il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni, presentandovi quindi le opere che arrivano sul mercato proprio quest'anno. Io mi presento, mi chiamo Rita Occhipinti, sono una fisica e lavoro nella redazione scientifica di Mondodoro Education. Lavoro alla redazione, diciamo, cartacea, quindi mi occupo proprio dell'oggetto fisico, libro di scuola. Il mio collega, Vincenzo Belluomo, è invece referente di tutta la redazione scientifica, quindi non solo per la fisica, per tutte le attività multimediali. Buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Allora, iniziamo subito a parlarvi dell'opera appunto che presentiamo oggi, che si chiama IMAGO. IMAGO è un corso di fisica destinato ai licei umanistici. Questo che vedete qui è un po' la configurazione, c'è un volume per il secondo biennio, un volume per il quinto anno e tre fascicoli, uno per ogni anno, che contengono un percorso semplificato. E poi ovviamente c'è la guida cartacea per il docente, oltre ai materiali digitali per il docente. Voglio soffermarmi un attimo sul titolo di quest'opera e sul concept proprio. IMAGO è appunto la radice etimologica di immaginazione e già dal titolo di quest'opera quello che volevamo comunicare è proprio un firruge a cui le autrici tengono moltissimo, che è proprio l'idea che l'immaginazione non è distante, non è separata dalla ricerca scientifica, ma è proprio parte integrante del lavoro di uno scienziato. Ci consente di costruire modelli, per esempio. Quindi IMAGO vuole subito comunicare già dal titolo quest'idea di fondo. Le autrici, mi soffermo sulle autrici, si chiamano appunto Gabriella Mussi e Laura Castagnetti, sono, per quanto riguarda l'editoria, sono delle nuove autrici di Mondatore Education, ma per quanto riguarda l'insegnamento sono docenti di grande, grandissima esperienza, proprio in queste scuole, cioè proprio nelle scuole a cui è destinato IMAGO. E questo è molto importante perché ha delle ripercussioni proprio su come quest'opera è stata costruita, perché non è un corso derivato, come spesso accade, da un corso di fisica più alto destinato ai licei scientifici. Quindi non è un derivato per tagli e semplificazioni, ma è un corso destinato ai licei umanistici che nasce in maniera proprio precisa per i licei umanistici, progettato e scritto da insegnanti di grandissima esperienza in queste scuole. Le autrici hanno perfettamente a fuoco quelle che sono le esigenze, non solo delle loro studentesse e dei loro studenti, ma anche dei loro colleghi, quindi hanno perfettamente a fuoco quelle che sono le esigenze dei docenti e degli studenti in queste scuole. Faccio prima una carrellata di quelli che, nelle intenzioni dell'editore e delle autrici, sono i punti di forza di quest'opera e poi ve le illustrerò in maniera più dettagliata. Prima di tutto gli indici, quindi Imago ha una scansione efficace, secondo noi molto vantaggiosa da un punto di vista didattico, che consente di risparmiare tempo e un quinto anno cuscito su misura sulle esigenze del target. Questo è stato possibile non solo per la grande esperienza, ribadisco, delle autrici, ma proprio perché il corso non è derivato da un corso dei licei scientifici, quindi abbiamo potuto fare delle scelte specifiche per queste scuole. Un altro punto di forza è un lavoro molto accompagnato sui modelli per la risoluzione dei problemi, è una fortissima aderenza alla realtà. Per la fisica moderna è fatta in una sezione finale del volume di quinta, con un taglio divulgativo, quindi per questa parte non abbiamo dei capitoli standard. Sono presenti gli easy lab, li abbiamo chiamati così, sono dei laboratori informali presenti nelle pagine di teoria e infine un apparato digitale davvero molto ricco. Soffermiamoci un attimo sull'indice del secondo biennio. La scansione che le autrici Gabriella Mussi e Laura Castagnetti ci hanno proposto è una scansione nuova ma nota, quindi in certo senso è una scansione che si faceva al liceo scientifico quando al liceo scientifico e alla fisica si faceva soltanto nel triennio, quindi prima la cinematica, poi la dinamica e infine la statica. Nei libri che si trovano sul mercato tradizionalmente invece si ha prima la statica, poi la cinematica e poi la dinamica. Perché questa scansione è vantaggiosa da un punto di vista didattico? È molto intuitiva perché ovviamente il moto è un fenomeno molto, è osservabile molto facilmente mentre le forze sono un po' più difficili da visualizzare a volte. Consente di risparmiare tempo perché non bisogna riprendere due volte il concetto di forze, quindi non si fa prima la statica, poi si fa la descrizione del moto e poi di nuovo si riprende il concetto di forza quando si fa la dinamica. Ma, e quindi questo consente di risparmiare tempo, che sappiamo essere uno dei principali problemi che hanno ovviamente gli insegnanti, è logicamente coerente e soprattutto è compatibile con il programma di matematica. E qui mi soffermo un attimo perché nei libri del liceo scientifico si tende a rimandare un po' la cinematica, quindi a farla non all'inizio, perché occorrono le equazioni di secondo grado, quindi si deve necessariamente aspettare un po' il passo dei libri, del programma di matematica. Quando io derivo un libro per i licei umanistici da un corso per i licei scientifici, ovviamente derivo anche questa scansione, quest'ordine, ma qui avendo un libro che nasce ed è progettato appositamente per i licei umanistici, è stato possibile ripristinare la scansione per cui si inizia con la cinematica, quindi con la descrizione del moto, poi mi interrogo sulle cause del moto e poi derivo l'equilibrio come un caso particolare, quindi la statica come caso particolare della dinamica. L'indice del quinto anno, anche questo, è diciamo cucito su misura. Cosa intendiamo per cucito su misura? Perché oltre ad avvalerci della grande esperienza delle autrici, abbiamo fatto un lavoro di grande ascolto, diciamo, dei clienti, ecco, perché questi sono poi gli insegnanti. Abbiamo fatto interviste, abbiamo fatto dei focus group, abbiamo sottoposto dei materiali campione agli insegnanti per sapere, per capire quali erano effettivamente le esigenze. E' una cosa che è stata detta spesso e in maniera unanime, è che in classe quinta c'è bisogno di un cambio di passo, quindi la fisica è semplice, ma comunque con un approccio un po' quantitativo nel secondo biennio, in quinta la trattazione deve essere un po' più qualitativa, un po' per la difficoltà degli argomenti, un po' perché ovviamente la finalità di questi licei non è quella di avere enormi abilità di calcolo. Quindi abbiamo cercato di misurare le abilità di calcolo al secondo biennio e in classe quinta in maniera differente. La particolarità poi del volume di quinta è questa parte finale che si chiama percorsi di fisica moderna, in cui abbiamo deciso di trattare la meccanica quantistica, ma anche altri argomenti, adesso dopo vi mostrerò alcune pagine, non come dei capitoli standard, con gli esercizi, con i test, ma con un taglio divulgativo che può essere, ci auguriamo che sia anche di piacevole lettura per gli studenti curiosi, che possa essere utile ai fini dell'esame di Stato per preparare il proprio percorso per l'orale e quindi abbiamo deciso di fare una sezione finale sulla fisica moderna con un taglio, un passo completamente diverso rispetto ai capitoli precedenti. Parliamo un po' adesso, adesso vi sfogliamo un po' il libro, ecco virtualmente, quindi la teoria ha una trattazione adatta al target, quindi in che senso è adatta al target? Nel senso che ha un approccio fenomenologico, si parte sempre dall'osservazione, dall'esempio proprio numerico perché questo restituisce una grande aderenza alla realtà, il linguaggio è semplice e la trattazione è costantemente accompagnata da tanti schemi e tanti disegni, proprio per facilitare, per andare a stimolare proprio i meccanismi di apprendimento di questi studenti. Nelle pagine che vedete per esempio qui, che ho scelto di mostrarvi, per parlare di legge oraria, si parte proprio dall'osservazione di un, in questo caso specifico, di un falco che vola nel cielo e poi da lì si parte, quindi prima l'osservazione del fenomeno e poi passo per passo, con un linguaggio semplice, la formalizzazione. La teoria quindi, come vi dicevo, è sempre accompagnata da grafici e schemi parlanti e per accrescere se il senso di aderenza alla realtà ogni volta che possibile abbiamo utilizzato delle foto al posto dei disegni. Ho scelto di mostrarvi questa perché qui si parla appunto di diagramma orario al posto di mostrare la solita macchinina disegnata una situazione reale, quindi una ragazza che corre. La teoria, ecco vi mostro altre pagine, è piena di facilitatori grafici e alla fine di ogni paragrafo c'è un checkpoint, quindi ci sono delle domande a risposta aperta e una mappa, una mappa concettuale che serve a organizzare le idee anche alla fine di ogni paragrafo, quindi con un passo breve. Nella pagina di teoria abbiamo due tipologie, chiamiamole così, due rubriche sullo svolgimento degli esercizi. Questi esercizi si chiamano nella realtà e sono appunto esercizi svolti che hanno sempre un'ambientazione reale, ma la vera novità è questa rubrica che si chiama dalla teoria alla realtà. Sono esercizi molto simili, molto simili, affiancati. Un esercizio completamente risolto, senza ambientazione, quindi più astratto. È un esercizio invece guidato da completare con un contesto reale. Affiancare, una delle difficoltà che hanno gli studenti, e questo ce lo raccontate spesso voi insegnanti, è che gli studenti fanno fatica ad associare, poi a interpretare il testo di un problema e ad associare gli elementi del modello fisico agli elementi poi del fenomeno reale. Questa rubrica vuole proprio farli allenare e vuole proprio sviluppare e consolidare questo tipo di competenza. Quindi affiancare un esercizio più astratto a un esercizio con contesto reale aiuta gli studenti proprio a cogliere quei collegamenti tra il modello e il fenomeno, tra l'oggetto e la realtà. Nelle pagine di teoria abbiamo anche questi laboratori che si chiamano EasyLab. Sono laboratori informali, sono laboratori che possono essere svolti in cattedra, quindi con materiale che è reperibile piuttosto facilmente, e quindi sono delle osservazioni guidate dei fenomeni, possono essere svolti in gruppo, quindi sfruttando tutti i benefici dell'apprendimento cooperativo, e poi possono servire per esempio per spezzare una lezione. Sappiamo che lo span di attenzione di questi studenti, che sono generazione Z, in classe va dai 7 ai 10 minuti, quindi a volte può essere utile avere dei suggerimenti sulle pagine di un libro per fare un'osservazione guidata di un fenomeno e spezzare in qualche modo la lezione frontale. Alla fine di ogni capitolo c'è una doppia pagina che serve a fare un ripasso guidato, c'è una sintesi e una mappa concettuale sulla carta, ma con il QR code che si trova in cima a questa doppia pagina, si accede anche all'audio sintesi, quindi alla sintesi in formato audio, alla mappa in formato modificabile e alla presentazione dell'unità. Quindi qui dentro sono accessibili tutti gli strumenti per un ripasso efficace. L'eserciziario è ricchissimo, numerosissimo ed è molto graduale. Qui ribadisco l'esperienza delle autrici, quindi una cosa davvero importante è misurare il giusto livello di difficoltà negli esercizi e avere uno strumento importante per gli insegnanti, avere un eserciziario graduale. Quindi una giusta gradualità dagli esercizi di primissima applicazione ai problemi un po' più complicati e il limite oltre il quale non andare se il libro è destinato ai licei umanistici deve essere ben chiaro nelle intenzioni di chi scrive e di chi poi i libri li realizza. Gli esercizi sono non solo graduali ma molto vari nelle tipologie, ci sono esercizi con i grafici, esercizi in cui bisogna fare dei disegni o interpretare dei disegni e poi c'è un lavoro specifico sull'inversione delle formule che sappiamo essere un po' uno zoccolo duro per gli studenti che si avvicinano a questa materia per la prima volta. E quindi negli eserciziario c'è una rubrica che si chiama lavora sulla formula in cui data una formula si fa un completamento quindi gli studenti devono completare ricavando da soli le formule inverse e poi applicarle immediatamente per fare degli esercizi come quello che vedete lì che è un completamento di una tabella. Quindi ti guido a ricavare la formula inversa, te la faccio applicare immediatamente in modo che lo studente possa memorizzarla. Alla fine di ogni capitolo c'è anche una pagina che si chiama autovalutazione con un test, diamo allo studente le risoluzioni in modo che da solo possa autovalutarsi, possa controllare che cosa ha fatto bene e cosa ha fatto male. I test verso l'università si trovano in ogni eserciziario, in ogni capitolo e poi sul volume di quinta ci sono anche delle simulazioni con i test di ammissione a medicina. Abbiamo cinque simulazioni di test e si trovano in un appendice in fondo al volume quando sappiamo, immaginiamo che sia utile per gli studenti di averle. Adesso voglio parlarvi di queste pagine che si chiamano competenze e realtà. Alla fine di ogni capitolo c'è appunto una pagina dedicata a ragionamenti guidati, progetti guidati, sempre con una fortissima aderenza alla realtà. C'è una rubrica sulla patente, c'è la storia qui delle tartarughe che seguono probabilmente il campo magnetico terrestre per tornare a depositare le uova nella spiaggia in cui sono nati, per cui ci sono anche storie interdisciplinari e ci sono poi anche storie di scienziati e di scienziate nel volume di classe quinta. C'è anche in quest'opera un percorso sull'educazione civica. Qui vi mostro tre dei compiti di realtà che sono appunto le letture sui temi della sostenibilità, sulla fisica ambientale, sull'educazione alla salute. Sono tutte strutturate con un testo di approfondimento e delle attività proposte da svolgere singolarmente oppure con l'intera classe. Il riferimento agli obiettivi dell'agenda 2030 è esplicitato sempre quindi proprio con il logo degli obiettivi dell'agenda 2030. Siamo nei licei umanistici quindi abbiamo anche una prima proposta, una proposta per il CLIL. Ci sono delle letture con delle attività CLIL, una in ogni capitolo, quindi sono molto molto presenti. Ogni capitolo ha la sua attività CLIL e anche qui i temi sono molto vari. Può essere un tema storico, può esserci un tema di attualità. Possono esserci anche qui dei temi ambientali. Sono quindi 21 attività di questo tipo nell'intero corso per i tre anni. Fisica ieri e oggi. Adesso vi faccio vedere quindi tutte le tipologie di approfondimento presenti in quest'opera. È una rubrica di storia della fisica ma non solo. Ecco mi piace dire così perché la storia della fisica insegna e la storia della fisica a volte ovviamente ha dei collegamenti con l'attualità e allora può per esempio farci porre delle domande come qual è la paternità delle scoperte scientifiche quindi a chi appartengono quindi dalla storia all'attualità e questo per consolidare proprio la cittadinanza scientifica. Ed eccoci qui ai percorsi di fisica moderna. Come vi dicevo all'inizio di questa presentazione alla fine del volume di classe quinta abbiamo una sezione dedicata alla fisica moderna. La prefazione è stata scritta da Gabriella Grayson che è una fisica performer teatrale scrittrice che ha visto il progetto di questa sezione del libro e ha colto diciamo lo spirito e ha accettato di scrivere la prefazione. I quelli che ve l'elenco che vedete a destra sono i sette percorsi di fisica moderna. Sono sette. Abbiamo la crisi della fisica classica quindi quella che tradizionalmente si trova in un capitolo dedicato in un capitolo del libro si trova invece fatta in maniera divulgativa. Si parla di crisi del determinismo. Abbiamo molto attuale un percorso dedicato alla fisica nucleare, alla fissione, alla fusione con un riferimento anche agli ultimi avvenimenti. Un percorso di cosmologia, uno di astrofisica. Fare scienza oggi racconta come funzionano le grandi collaborazioni internazionali. Quindi interdisciplinare può davvero essere utile anche ai fini dell'orale, alla fine del percorso di studi. È uno dedicato alla fisica dei sistemi complessi che ovviamente è diventato di interesse più grande dopo la vittoria del premio Nobel da parte di Giorgio Parisi. Quindi è una sezione del libro molto molto attuale e con un taglio appunto divulgativo. Qui ne vedete le prime pagine di tre. Mi soffermo un attimo su quel QR code che vedete lì. Poi ve ne parlerà meglio il mio collega. A questi sette percorsi di fisica moderna sono associate sette puntate di un podcast che si chiama La strada che porta alla realtà che quindi in qualche modo il percorso divulgativo ha anche un'espansione digitale con un racconto fatto appunto con questo podcast. Ma vi dirà meglio dopo il mio collega. L'ultima cosa che devo dirvi è che abbiamo dei percorsi semplificati. Quindi ognuno abbiamo tre fascicoli. Questo che vi mostro è quello di classe terza che hanno quindi una trattazione ancora più schematica, una teoria trattata per punti essenziali che serve appunto per i bisogni educativi speciali ma in realtà è uno strumento utile per tutta la classe, per il ripasso. È suddiviso a lezioni. Ogni lezione ha anche qui un checkpoint, quindi una mappa concettuale, però stavolta è da completare in maniera guidata. Per ogni capitolo, ogni capitolo si chiude con una doppia pagina come questa che vedete, una doppia pagina operativa dove c'è una mappa concettuale dell'intera unità, quindi abbiamo delle mappe, una per ogni lezione, è una mappa dell'intero capitolo guidata da completare e un test, un test per mettersi alla prova. Io adesso lascio la parola al mio collega Vincenzo Belluomo che vi illustrerà tutta l'offerta digitale. Una cosa che vi faccio vuol dire è che ovviamente la nostra presentazione dura circa tre quarti d'ora. Fate le domande nella chat di YouTube e quindi se avete qualche domanda, qualche curiosità sull'opera, poi vi risponderemo ovviamente. ecco, mi sentite, spero. Ok, allora, io vi faccio un po' una panoramica di quella che è l'offerta digitale di quest'opera, che è un'offerta digitale molto ricca e molto diversificata. Come potete vedere ho cercato di assumere in unica slide un po' tutte quelle che sono le varie tipologie di contenuti digitali che troverete in quest'opera, a chi sono destinate e anche un po' quella che è la modalità di erogazione dei singoli oggetti digitali. Anzitutto avete visto che le pagine sono ben corredate di tanti QR, questo perché tutti i contenuti digitali che vedete qui richiamati sono visibili attraverso QR code. Quindi avete la possibilità non solo di avere il vostro libro completo già in piattaforma, ma ovviamente anche di lanciarli direttamente anche dalla carta, dal libro cartaceo. faccio anche riferimento a quei bolli che vedete lì in alto a destra, che sono i luoghi dove vengono erogati i nostri contenuti digitali, ovvero l'outkit, che in un certo senso è il pacchetto di risorse nudo e crudo diviso per, seguendo la stanzione del libro, quindi dove ci sono, dove potete trovare tutte le risorse digitali per unità per unità. L'outtest, che è la nostra piattaforma di erogazione di verifiche, che come sapete probabilmente molti voi già conosceranno, è di libero accesso, si possono comporre le verifiche sia per essere erogate in classe virtuale sulle varie piattaforme, sia per poterle stampare semplicemente e anche i ragazzi possono utilizzarla per fare autocontazione accedendo liberamente. Poi c'è LabSmart che appunto sono le nostre Lab dei nostri QR code, per i quali vengono erogati i nostri contenuti direttamente inquadrando il QR code in pagina. Il campus dove sono presenti molti degli approfondimenti che trovate sia nel libro ma anche fuori dal libro, faccio riferimento per esempio alle lezioni digitali, che sono quel pacchetto di lezioni che abbiamo messo a disposizione già a partire dal post pandemia, dove poter costruire una didattica semplificata attraverso dei moduli già predefiniti e poi la nostra piattaforma Beyond dove potete visionare il nostro libro digitale completo e aggiungiamo sulla fisica anche il nostro canale GeoGebra, che è una novità, è una novità, non il canale GeoGebra, ma l'utilizzo delle attività di GeoGebra anche per la fisica che sta prendendo piede soprattutto negli ultimi anni, ma di questo poi vi mostrerò poi un piccolo esempio più avanti. Scorro velocemente la lista, poi vi faccio vedere nella realtà come sono fatti i contenuti. Dicevo che è un'offerta ricca e molto diversificata, abbiamo tanti video di diverse tipologie, ci sono i videolaboratori, dei classici video di teoria, ma in quest'opera abbiamo spinto tanto anche con una nuova produzione video che guarda al mondo divulgativo e quindi ci sono dei video di divulgazione, ci sono delle videobiografie animate e questo per rendere appunto l'idea di una produzione video che non si limita soltanto agli esercizi guidati o eventualmente al laboratorio oppure alla parte di teoria. Abbiamo diversificato anche le presentazioni, l'offerta delle presentazioni, vedete lì segnate presentazioni di warm-up e presentazioni di sintesi, ma per questo poi vi mostrerò un esempio. Si è parlato dei podcast nella fisica moderna, nell'area della fisica moderna, abbiamo sviluppato questo podcast insieme a un divulgatore intorno alle domande della fisica che hanno cambiato il mondo. C'è il nostro canale GeoGebra, abbiamo tante attività sul nostro canale che sono richiamate all'interno del libro, sono completamente libere e già disponibili. Poi c'è tutta una serie di approfondimenti, come avete visto, schede storiche che vengono agganciate nelle rubriche di riferimento, una forte produzione completa di tutti quei materiali per l'inclusione e quei materiali di sintesi, quindi le audio, le mappe in formato personalizzabile, modificabile, quindi in PowerPoint, così come le presentazioni di sintesi, tutti i PDF degli svolgimenti delle verifiche, che sono dei materiali utili ai ragazzi per l'autovalutazione. Aggiungo, non c'è in questo elenco che anche gli esercizi prevedono, alcuni esercizi sono stati sviluppati in forma commentata, quindi ci sono delle slide che accompagnano anche la parte esercitativa con degli esercizi appunto commentati. Per il docente, poi su questo magari poi dopo la mia collega vi mostrerà fisicamente come è fatta una letta del libro, abbiamo inserito nella copia docente dei QR che rimandassero alle liste dei contenuti digitali, quindi voi nella vostra copia docente, poi potrete vedere la copertina, avete delle alette dove ci sono dei QR che rimandano alle intere collezioni dei nostri contenuti digitali, questo ovviamente per agevolare soprattutto da parte vostra la fruizione e la visione degli elenchi completi delle risorse da poter utilizzare. Come sempre mettiamo a disposizione per il docente poi la guida in formato stampabile, quindi vi passiamo il PDF, avrete la disposizione PDF della guida, la parte di programmazione delle verifiche invece l'avrete anche in formato modificato, quindi avrete il Word che vi è comodo per le vostre attività, avrete tutte le soluzioni sia dei volumi che delle verifiche e poi abbiamo potenziato anche sulla parte digitale. Eccomi qui, faccio una breve incursione perché appunto parlavi della letta, avendo io qui vicino a me uno dei volumi volevo mostrarla perché probabilmente avete, se non l'avete già fatto magari potete chiedere appunto l'opera al vostro rappresentante di zona, la copia saggio, nella copia saggio questa è la letta di cui vi parlava il mio collega, quindi c'è un'espansione proprio della copertina con un riassunto di tutti quelli, di tutte le risorse digitali disponibili, un po' più o meno la panoramica che vi sta facendo il collega e i QR per accedere in maniera diretta a tutte le cose che vi sta elencando. Ecco, quindi dove trovate questa letta? Nella copia saggio che potete chiedere al vostro rappresentante. Basta, era questa la mia incursione. Ecco, riprendo il mio elenco completando, dicendo che c'è un forte potenziamento sul digitale anche della parte esercitativa e di ciò che vi mettiamo a disposizione per fare delle verifiche, quindi avrete a disposizione degli esercizi extra, modificabili ovviamente, e in più anche delle verifiche già realizzate in modo di Google, che voi potrete importare, copiare, erogare sulle vostre classi virtuali. In più ci sono, come ho detto e ho già citato le lezioni digitali, tutti i contenuti poi sono anche presentati nella versione USB, quindi offline dell'opera. Io andrei avanti iniziando a mostrarvi un po' quelli che sono gli aspetti, come appaiono i nostri contenuti digitali. Si parlava, a partire dal titolo, di un lavoro che è un approccio molto più vicino all'osservazione, ma che deve stimolare l'immaginazione. Voglio farvi vedere un breve estratto di questo video, che è un video di divulgazione, quindi ve lo lascio guardare e poi vi racconto un po' cosa c'è dietro. Perché stelle e pianeti si muovono? E soprattutto, come si muovono? Se secondo Dante è l'amor che muove il Sole e le altre stelle, per avere una spiegazione più precisa, anche se certamente meno romantica, abbiamo dovuto aspettare gli inizi del Cinquecento, quando le osservazioni di Copernico prima e Keplero poi portarono all'elaborazione di un modello di universo che poneva il Sole al centro e la Terra e gli altri pianeti in orbita attorno a esso. Keplero, in particolare, formulò tre leggi che ancora oggi portano il suo nome e che definiscono precisamente le orbite dei pianeti attorno al Sole. 1. Ogni pianeta descrive un'orbita ellittica, di cui il Sole occupa uno dei due fuochi. Per ellistra si intende il luogo dei punti per i quali la somma delle distanze da due punti fissi, i fuochi, è costante. Si tratta di una specie di cerchio schiacciato. Il punto di massima vicinanza di un pianeta dal Sole si chiama perielio, quello di massima distanza si chiama aferio. 2. Il raggio vettore che va dal Sole al pianeta spazza aree uguali in tempi uguali. Questa legge implica che i pianeti non si muovono con velocità costante, ma rallentano in prossimità del perielio e accelerano in prossimità dell'aferio. 3. Il rapporto tra il quadrato del periodo di rivoluzione e il cubo del semiasse maggiore dell'orbita è costante. Vuol dire che i pianeti più lontani dal Sole impiegano più tempo a percorrere un giro completo dell'orbita. Ecco, io la scena in sottofondo, ma semplicemente avevo piacere di mostrarvi uno di questi video proprio per raccontare che tipo di approccio abbiamo dato alla produzione dei contenuti multimediali. Ci siamo rivolti molto più a delle produzioni, dei collaboratori, in questo caso degli autori, che potessero supportarci per questo sguardo molto più divulgativo, quindi che riguarda, che avvicina molto più i contenuti che si possono trovare anche fuori dai libri e che in un certo senso possono essere anche una chiave di interesse maggiore per stimolare l'immaginazione dei ragazzi. Detto questo, oltre alla produzione di video di divulgazione, qui tolgo l'audio perché non è necessario farvi ascoltare questi video, affianchiamo sempre comunque una produzione un po' più standard di video, come per esempio i video laboratori, dove appunto si parte dall'osservazione guidata dei fenomeni, o anche le video biografie che sono sintetiche, sono in formato animato e che appunto possono favorire un po' quelli che sono i concetti da fissare nella vita, nella biografia di uno scienziato. Detto questo, la nostra playlist di fisica su YouTube, la playlist di upscore di fisica su YouTube, ha al momento quasi 200 video, 195 video, quindi capite bene che si va a integrare un comparto video già molto ricco. Avanti, vi avevo anticipato che c'è stato un lavoro anche di diversificazione sulle presentazioni. Qui ci sono due presentazioni a confronto, quella di warm up a sinistra e una presentazione di sintesi a destra. Che tipo di lavoro è stato fatto? Anche qui abbiamo pensato di lavorare molto più con un approccio vicino all'osservazione, che parte dall'osservazione. Le presentazioni warm up che si trovano all'inizio delle nostre lezioni sono costruite su una domanda, su una domanda che parte da un'osservazione. quindi ci sono delle coppie di slide in cui si sviluppa appunto una domanda, un'osservazione, qualcosa che deve stimolare l'interesse e poi nella seconda slide proviamo attraverso una risposta evidenziata, ma anche dei riferimenti grafici. Prima si parlava tanto di come anche gli schemi, i grafici possono sottolineare, possono rinforzare le definizioni e quindi grazie a questo supporto grafico noi vogliamo in un certo senso presentare gli argomenti in modo diverso, partendo con delle domande, delle osservazioni. D'altra parte però non tralasciamo nemmeno quei contenuti un po' più standard, che sono le presentazioni di sintesi, che seguono il passo di tutte le unità e quindi di conseguenza riportano tutti gli argomenti in modo schematico e con le illustrazioni. Arrivo adesso a parlare del podcast, la voce che avete sentito nel video è la stessa che ha firmato e ha scritto e registrato i nostri podcast, ovvero Sandro Giannacone. Sandro Giannacone è un giornalista scientifico ed è un fisico ed è l'autore di questo podcast che racconta appunto come le piccoli e grandi domande della scienza hanno segnato e segneranno il cammino del genere umano. Noi abbiamo chiamato questo, abbiamo intitolato questo podcast la strada che porta alla realtà, il lavoro che ha fatto Sandro è un lavoro prezioso che parte da alcune domande chiave nella storia della scienza, ma il lavoro lo definisco prezioso perché? Perché è davvero un lavoro molto minuzioso che parte dalle fonti e racconta delle storie, perché si raccontano delle storie che hanno cambiato il corso della scienza e attraverso queste domande, in un certo senso anche un po' riprendendo quel principio di porre al centro la domanda dell'osservazione, appunto la domanda al centro della ricerca scientifica, quindi un po' il metodo dell'inquire based science education, riprendendo questa idea ha costruito sette puntate dove attraverso sette storie ci racconta cosa c'è dietro ad alcune domande chiave della fisica, come appunto come funziona la luce, di che cosa è fatta la materia, dove sta andando l'universo, dove viene, dove sta andando l'universo ed è un podcast che abbiamo registrato insieme a lui e che avrete già a disposizione nel vostro libro e sulle piattaforme poi da settembre. Vi parlavo del canale GeoGebra, qualcuno di voi probabilmente già lo conoscerà, l'operazione che abbiamo fatto è un'operazione molto ampia, se voi cercate su Google il nostro GeoGebra Hub Scuola, il primo risultato che troverete è la nostra pagina. Abbiamo costruito una pagina che quindi non si rivolge soltanto ai docenti di matematica, perché sono quelli un po' più abituati ad utilizzare GeoGebra, ma abbiamo provato a costruire delle animazioni come quella che vedete adesso in video, già pronta, pensata per fare delle piccole esperienze interattive che possono essere sia autonome, cioè fatte dai ragazzi direttamente inquadrando il QR code, ma possono essere anche utilizzate in classe attraverso la LIM. Anche questo è un modo per coinvolgere sempre di più i ragazzi e per fargli fare quel passaggio che è critico tra la formulazione, cioè l'osservazione e poi, quindi l'osservazione epidemiologica e la formulazione matematica che c'è a dire della sua analisi, quindi quel passaggio modello fenomeno di cui si parlava prima. Un fortissimo lavoro è stato fatto, come vi dicevo, anche sulla parte di esercizi. Vi mettiamo a disposizione per quest'opera oltre 100 Google Moduli, tutti raccolti in un'unica, non chiamiamo volgarmente tessere, in un'unica raccolta già a vostra disposizione. Quindi se qualcuno di voi ha sotto mano una copia saggio, una copia docente, potrà inquadrare il QR code che fa riferimento ai Google Moduli e potrà vedere che ha già a disposizione tutti i moduli per la fisica. Questo perché? Perché la richiesta è sempre stata molto forte, negli anni si è chiaramente potenziata, e quindi abbiamo pensato che, oltre a tutti gli esercizi che forniamo già in versione digitale, anche attraverso il nostro sistema AppTest, questo ci sembrava un modo ancora più diretto di mettervi in mano delle verifiche già pronte, che ovviamente voi potete sempre modificare, perché lo strumento Google Moduli vi permette di personalizzare al meglio tutte le verifiche. Io ho completato il mio escurso sulla parte digitale, detto questo, visto che sono già arrivate a delle domande, non so se Rita vuole rispondere. Sì, già, mentre sei qui appunto, che appunto stavi parlando dei materiali digitali, c'è una domanda per te. I contenuti digitali si possono già vedere tutti? Allora, sì, i contenuti digitali già del volume che noi definiamo proprio ciclo, cioè il volume di secondo piegno, in questo caso è completo. Quindi già la vostra copia ha tutti i contenuti digitali attivi. Ok. Poi c'è una domanda per me sui libri semplificati. Sono due domande sui libri semplificati. Sono già disponibili? Allora, sono tre appunto, uno per ogni anno. Il volume di classe, il fascicolo di classe terza è già disponibile, quindi se voi chiedete alla gente di zona di farvelo avere, ve lo porta. Per la vendita, quindi per settembre, per il rientro a scuola, sarà disponibile, saranno disponibili anche quello di quarta e di quinta. Proprio oggi ho approvato per lo stampatore quello di classe quarta, a breve quello di quinta, e quindi saranno a breve disponibili anche gli altri due. Chiaramente per vedere come sono strutturati potete fisicamente chiedere e tenere in mano il primo dei tre. L'altra domanda che è sempre su questi fascicoli semplificati mi chiede Sonia dal Pio se vanno presi in sostituzione del testo. O sono in aggiunta? Sono in aggiunta, direi. E gli alunni BES che hanno la stessa programmazione della classe possono studiare soprattutto la parte di teoria su questi fascicoli. I fascicoli contengono quasi tutto quello che è presente nel volume principale, ma in una versione estremamente schematica. Sono pochissimi gli argomenti presenti sul volume principale e non presenti qui. vi porto un esempio. Sul volume principale, chiamiamolo principale, il volume imago, il volume con la foliazione grande, c'è un paragrafo che si chiama i fluidi in movimento dedicato alla dinamica dei fluidi. Questo argomento non compare nel fascicolo, ma sappiamo che non si tratta di un obiettivo minimo e che è un argomento che viene spesso saltato. Quindi, a parte alcuni argomenti come appunto la dinamica dei fluidi, la teoria del fascicolo è quasi del tutto sovrapponibile a quella dei volumi principali. Quindi sicuramente possono utilizzare questi testi. Per la parte esercitativa, come vi dicevo prima, qui abbiamo una mappa a completamento e un test. Quindi, per gli alunni con BES che seguono la stessa programmazione della classe, per la parte esercitativa, oltre a quello che è presente dentro il fascicolo, ci si può sicuramente avvalere di tutti gli esercizi di livello base che si trovano anche dentro i volumi principali e in guida sono disponibili per il docente che può appunto darle agli studenti con bisogni educativi speciali, sono presenti delle verifiche semplificate. Anche queste sono disponibili come tutte le verifiche in formato Word, quindi il docente può sicuramente attingere anche a quel serbatoio di esercizi per i suoi studenti con bisogni educativi speciali e che hanno comunque lo stesso programma da svolgere dei loro compagni. Quindi spero di aver risposto. C'è anche più che una domanda o un commento. La meccanica quantistica è trattata in modo speciale, non come gli altri capitoli. Esattamente, se vi riprendo la slide con l'indice di classe quinta, posso tornare indietro? Sì, scusate, velocemente torno all'indice di classe quinta, eccolo qui. Come vedete l'indice di classe quinta all'ultimo capitolo trattato come capitolo standard, quindi teorie, esercizi, approfondimenti, letture, quindi tutta la struttura che vi ho mostrato è la relatività ristretta. Abbiamo molto dibattuto su questo e ne abbiamo discusso non solo con le autrici, ma anche nei focus group che abbiamo fatto con i docenti. E moltissimi, la stragrande maggioranza ci ha detto che se si arriva a fare un po' di relatività è già tanto. La meccanica quantistica, ci hanno detto che avrebbero preferito averla con un taglio divulgativo, che è il motivo per cui quindi è emigrata nella parte finale per corsi di fisica moderna, anche per il suo valore culturale, per i collegamenti che ha con la filosofia, per l'impatto che ha avuto, e quindi ci è sembrato adatto ai licei umanistici trattarla con taglio divulgativo e metterla in quella sezione, proprio perché viene spesso toccata collegandola con altre materie, e quindi in maniera divulgativa. E quindi così l'abbiamo trattata. Ecco, sì. Se non ci sono altre domande, vi ricordo che potete, i docenti che hanno assistito alla diretta e tutti i docenti che guarderanno questo video entro la mezzanotte di oggi, riceveranno l'attestato di partecipazione, che sarà disponibile sul nostro sito. Anche le slide sono a disposizione. Se volete vedere l'opera, contattate il vostro agente di zona, così vi porta la copia saggio, e potete contattare la redazione per qualunque altro dubbio. Noi vi ringraziamo per il vostro tempo. Grazie a tutti. Vi auguriamo un sereno prossimo anno scolastico, con i mago magari, ecco. Buona serata a tutti, buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.